Musica Ciao a tutti ragazzi sono TheGiant e ben ritrovati qui sul mio canale Siamo qui in questo piccolissimo video giusto per dirvi comunque che sono partito, partirò, devo partire, non lo so Sicuramente quando state vedendo questo video io sarò già in vacanza Quindi è giusto un piccolo video che ho voluto farvi per avvisarvi e per non farvi comunque mancare i miei auguri diciamo E che passiate delle buone vacanze anche voi se le facciate È un piccolissimo video per dirvi che comunque io da domenica, cioè da oggi che penso uscirà il video, spero che sia uscito oggi di domenica 9 Io sarò già partito per la Calabria, faccio una settimana in Calabria Per comunque dirvi che sono partito e per augurarvi buone vacanze di ferragosto se mai le facciate Comunque o per comunque augurarvi un buon periodo di ferragosto Sono qui per dirvi che comunque ho fatto il massimo per cercare di portarvi almeno, non so, 1-2 video almeno una settimana prossima Ieri che era sabato ho fatto il massimo, ho cercato di, ho fatto giusto 3 video Che poi vedrete, tra cui uno ragazzi, quello di FIFA che uscirà sulle prediction del Milan Non vi anticipo nulla, dove ho incontrato contro uno youtuber Stavolta è vero, non è come l'altra volta che non era già strong Ma vi sicuro che stavolta è vero, è vero che ho incontrato uno youtuber che tra l'altro stava facendo una serie Perché lo seguo, so le serie che fa e fidatevi che sicuramente uscirò nel video di uno youtuber famoso Che io adoro ragazzi Ovviamente, cioè, se lo sapevo prima perché me ne sono accorto a fine partita Avrei giocato meglio perché sappiamo comunque le prediction è giusto un modo per farvi capire i movimenti di calciomercato Piuttosto che giocare bene le partite, non è una scusa Però me ne sono accorto quando stavo perdendo verso la fine E me ne sono accorto giusto alla fine Non era meritata come sconfitta comunque Però magari se all'inizio della partita gli dicevo che sia una pippa Comunque perché stavo dominando la partita ma comunque non riuscivo a segnare E signori, spero che vi piaccia quel video sulle prediction Non vi anticipo nulla, anche se un po' l'ho già fatto Spero che vi piaccia Poi uscirà un altro gioco che tornerà Non vi dico quale gioco Ma tornerà un gioco che da tempo che non porto E poi, vi dico solo questo Ci sarà la seconda puntata delle stagioni di Rocket League Questo è quello che sono riuscito a portarvi ragazzi Mi dispiace non avervi portato altro Mettetevi nei miei panni comunque Io ieri sabato ho finito di lavorare Sono andato in ferie Ho fatto mezza giornata Il pomeriggio sono riuscito a fare tre video A editarli tutti e tre E nella notte spero di aver riuscito Di essere riuscito a caricare tutto In modo tale che durante la vacanza basta che pubblico il video e scialla Quando tornerò dalle vacanze comunque tranquilli Tornerà regolarmente il video al giorno E torneranno tutte le serie che vi avevo annunciato nel video del vlog Signori io spero che questo mini video vi piaccia Non è nulla di che ma è giusto Per rendervi partecipi di quello che faccio Non volevo andare in vacanza senza dirvelo Anche se ve l'avevo già accennato Comunque buone vacanze a tutti Noi ci rivediamo presto Tra una settimana cominceranno i video regolarmente Ho fatto il possibile ragazzi per tenermi in compagnia Spero che comunque lo apprezziate E che capiate lo sforzo che ho fatto Signori ancora buone vacanze Fatemi le buone vacanze anche a me Andrò in Calabria Se magari c'è qualcuno dalla Calabria ci troviamo Vabbè cazzate Andrò vicino Sibari Signori spero che questo video vi sia piaciuto Se posso che ci lasciate un mi piace Commentate e condividete Condividete Che caso se ne frega gli altri Passate dalla mia pagina Facebook E dal mio profilo Instagram ragazzi Perché lì metterò tante foto Della vacanza Dei piccoli spezzoni di video Per vedere com'è il posto Ragazzi Io avrei tanta voglia di fare Tipo un after movie Della vacanza Non so se vi potrebbe piacere Potrebbe essere faticoso Poi nel montaggio Ma ragazzi Io ho uno sforzo che faccio Perché mi piacerebbe tanto farlo Ancora buone vacanze a tutti Il video è finito Ad agente è tutto Ciao aglio Ciao 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 Ciao